Sono Beatrice Fini, direttore editoriale dell'area Bambini e Ragazzi YA di Giunti Editore e del Marco Editoriale Scienza. Tutti gli anni, quando gli amici di Napoli mi invitano a tenere un modulo, una lezione dedicata all'editoria per ragazzi, accetto con grande entusiasmo, perché è davvero importante poter avere la possibilità di formare, di aiutare nel percorso professionale chi ha la stessa nostra insana passione di fare il lavoro più bello del mondo. Il mondo poi soprattutto dell'editoria per ragazzi è un mondo così articolato, così creativo, così particolare che necessita davvero di un procedimento esperienziale. Grazie a un corso così serio, così altamente qualificato, così ben costruito e articolato. Potete davvero rendervi conto se questo è il mestiere che volete fare e toccare con mano quali saranno le caratteristiche, gli skills, le competenze, le basi fondamentali per poterlo fare al meglio. Davvero grazie, sono molto onorata di essere una delle docenti del corso e davvero credo che sia uno strumento insostituibile, necessario per chi vuole lavorare nel settore così affascinante come quello dell'editoria.